Ciao Vittorio, sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan. Allora un saluto a tutti i miei fan e anche a tutti i miei fan. E diventeranno fan. E diventeranno fan dopo questo video, ragazzi. E vi faccio un bacione. Grazie, ciao. Faccio la foto, passo.